Benvenuti alla festa, canti, all'ospitale. Allora, cosa c'è stasera da mangiare? Molta roba, molta, sporchezza, carne e ferri, maccheroni dei ciucciù, vincini, che sono la fine del mondo. Ma chi ha cucinato? Te o lui? Io, ma assaggio, io assaggio. E vede anche dall'assaggio. Loro sono i tuoi figli che dovete guardare. Adesso vengo dentro. Da quant'è che state preparando la cena di questa sera? Il pasto frugale di questi cowboy? Questi cowboy saranno le altre sei. Lo prepariamo. Loro saranno le sei. Ma lo sento. Nei, Cattio. Allora, io so che siete un'associazione di volontari. Perché se non ci fossero i volontari non si andrebbe da nessuna parte. Ma in qualsiasi campo, eh. Amore. Che cosa fai a parte questa cosa qua? Vai. Allora, noi facciamo, al momento che quest'anno è stato sorpreso il paglio, però facevamo anche il paglio, abbiamo il processo di fare delle commette dialettali, e poi ci divertiamo. Una bella festa per Ferragosto con il discorso di stai e poi dopo vendiamo tutto il resto. Grazie. Prego, arrivederci.